La dialettica tra la prova di forza e la prospettiva di arrivare alla pace. E' chiaro che fin tanto che le parti sono convinte di poter migliorare la propria posizione sul terreno, c'è poco da fare. Io credo che i russi non accetteranno di negoziare finché non avranno esperito un secondo tentativo di vincere la guerra, verosimilmente con un obiettivo limitato, probabilmente, se fosse possibile, rivedere la carta. Quello che io immagino adesso è un tentativo di espandere l'area controllata a est e a sud. Se voi vedete, c'è quella parte che in realtà la carta non è proprio aggiornatissima, ma potrebbe servirci per spiegare quello che può accadere. Se voi vedete come è conformato il territorio ucraino, vedete che l'Ucraina sostanzialmente ha una estensione, una conformazione tale da rappresentare un cuneo all'interno della federazione russa. Allora i russi potrebbero adesso immaginare, non essendo riusciti a conquistare Kiev ed avendo rinunciato all'obiettivo di cambiare l'ordine politico in Ucraina, accontentarsi di guadagni territoriali a est e a sud che taglino questo saliente e consentano ai russi, come dire, di rigiocare la partita forse tra qualche anno? Probabilmente è un apprezzamento realistico. Sì, per capirci, scusi, così cerco di fare io il generale e i fioravanti. Praticamente ti prendono Kharkiv come fosse... Da Kharkov fino a Mariupolo, comunque cercando di ridurre quel dente che entra, che esattamente... Ok, chiaro. Questa cosa qui militarmente e strategicamente per i russi potrebbe aver senso perché permetterebbe loro intanto di avere un fronte meno esposto, visto che temono anche di essere aggrediti. E dall'altro, qualora volessero invece riprendere l'offensiva tra qualche anno, avere delle basi di partenza, diciamo, più agili, più confortevoli, sempre che questo discorso abbia un senso in una prospettiva di lungo termine. Allora, d'altro canto invece gli ucraini vogliono legittimamente liberare la gran parte del territorio che loro è stato sottratto. Allora, fin tanto che non sarà chiaro qual è l'equilibrio finale di forza, le parti, secondo me, non andranno a trattare, diciamo, in modo decisivo. C'è qualche accenno di volontà negoziale? Abbiamo visto qualcosa prima del crimine di Buccia. Ecco, perché appunto, torniamo al crimine di Buccia. Anche perché, mi scusi, è un'agenzia terribile, faccio fatica anche a leggerla, però tant'è. Parla il difensore civico ucraino, Ludmila Denisova, e dice che sono stati numerosi casi di tortura di civili, nei territori civili, nei territori liberati dagli occupanti razzisti. E loro da cosa lo capiscono? Hanno trovato pare dei corpi di bambini di meno di dieci anni, uccisi con segni di stupro e tortura. E aggiunge anche che nella regione di Chievi, il campo per bambini di Proliso, che ha ospitato per tre settimane la base di un'unità dell'esercito razzista, nel seminterrato sono stati trovati cinque cadaveri di uomini con le mani legate e torturati. Allora, naturalmente, sono tutte le notizie che vanno verificate, però diciamo che, insomma, il livello dell'atrocità sembra esponenziale, francamente. È una bomba. Allora, e qui veniamo al secondo punto. È una politica deliberata, questa di ricorrere ai crimini di guerra, oppure invece è l'evidenza di una condizione militare russa in cui i soldati sono allo sbando e si permette loro di fare di tutto per fare di loro, come dire, dei complici di un'operazione che non può avere altro esito che l'insuccesso totale o la vittoria finale? Questo è un po' l'interrogativo. Beh, e c'è da dire che ci sono dei precedenti storici. Per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, la Wehrmacht, non le SS, che già di loro, nella ragione sociale, avevano l'idea dello sterminio. La Wehrmacht, e questa cosa qui è stata accertata da uno storico israeliano di grande valore, Omer Bartoff, fece della pratica del crimine di guerra un meccanismo per cementare la solidarietà tra i soldati che altrimenti avrebbero avuto maggiormente la tentazione di arrendersi, visto che al fronte non campavano più di tre settimane in regia. Allora, questo è un orrore, ovviamente. Tu costruisci una complicità, un'omertà sulla quale e tieni unito un esercito che si sente fragile. Esatto. Quindi andrebbe capito se è un segno di sbandamento oppure è una politica, diciamo, deliberata. Sento subito, ho fatto una descrizione abbastanza impressionante, Germano Dottori, però posso garantirvi che lo fa ragionveduta perché studia questo e ne sa molto. Antonio Caprarica.